Io sono pronto. Grave crisi idrica ad Agrigento soffrono anche gli alberghi, gli albergatori e di conseguenza i turisti. Assolutamente, per situazioni straordinarie ci vogliono misure straordinarie. Queste misure straordinarie tocca a chi di competenza di metterle in pratica. Di fatto c'è che non possiamo rischiare un'altra stagione turistica. Lo facciamo già dal 2020. Prima la pandemia, poi il caro energia, poi la guerra, adesso la crisi idrica in provincia di Agrigento. Non ci possiamo permettere sicuramente un'ulteriore stagione di difficoltà, visto e considerato che comunque c'è tanto interesse sulla città di Agrigento e su tutta la provincia, anche in vista di Capitale della Cultura 2025. Quindi già oggi cominciano ad arrivare nelle prenotazioni già consolidate le richieste di notizie da parte dei turisti che fanno un investimento per le proprie vacanze e quindi vogliono arrivare in una città che funzioni. E quindi già c'è una sorta di richiesta di notizie da parte dei turisti proprio per capire se vengono ad Agrigento durante la stagione estiva che cosa troveranno. Una situazione che non possiamo permetterci e che naturalmente deve necessariamente e nell'immediatezza avere dei riscontri positivi da parte di chi di dovere.